Il GUP ha rinviato tutto il 14 maggio per un difetto di notifica all'unico indagato, Carmine Di Felice, per il quale si ipotizza il reato di circonvenzione di incapace e millantato credito. La vicenda è salita alla ribalta dalle cronache grazie al servizio della trasmissione alle Iene, tutta incentrata sulla fragilità di Nadia e Bartolo, affetti da conclamati disturbi dei quali si sarebbe approfittato Di Felice che avrebbe loro storto più riprese del denaro in cambio di false promesse. In particolare, esattamente un anno fa Di Felice si fece consegnare poco più di mille euro che Bartolo prelevò la mattina stessa dal suo libretto postale come compenso per il suo concreto interessamento per trovargli un posto di lavoro. Attività certificata anche da un falso documento con in calce la firma, falsa anche questa, del vice sindaco di Pescara Antonio Blasioghi, estraneo ai fatti che si impegnava a trovare una collocazione lavorativa a Bartolo. Per questo episodio specifico, oltre alla circonvenzione di incapace a Di Felice, il PM Andrea Papalia contesta anche il reato di miliantato credito. Stamana in tribunale erano presenti anche le figlie di Nadia e Bartolo, Isabella e Maria Grazia, allontanate da piccole dai loro genitori su disposizione del Tribunale dei minori, solo di recente tornate all'ovile e fu proprio in quella occasione che si accorsero della truffa e decisero di contattare la redazione delle Iene. Mi aspetto una condanna esemplare ed è triste che ancora oggi delle persone si approfittano di persone più deboli, ecco, soprattutto perché questa persona che si è approfittata dei nostri genitori ha capacità di lavorare e di fare, nel senso non gli mancano le gambe e non gli mancano le mani. Approfittarsi di persone deboli non è il caso, non è giusto. Sabrina Diliso, legale di Bartolo Beninato, parla di quadro probatorio granitico. Dalle indagini investigative emerge con palese evidenza quella che è stato il comportamento del signor Di Felice, il quale approfittando appunto del disturbo, ahimè di natura psichiatrica, di Nadia e Bartolo, ha estorto loro purtroppo sin dall'anno 2012 ingenti somme di danaro. Una vicenda veramente squalida, veramente squalida considerando che a parte tutto il contesto e tutto quello che è accaduto, questo signore è arrivato al punto di far vendere le fedi, di far vendere dei pochi gioielli, dei pochi di oro di questi signori per poter poi lucrare anche su questo. Grazie a tutti.